Hai visto quella vecchia? Il modo in che mi sta guardando. Ahhhh! Quello lì! Guarda come mi sta guardando! Eh? No, sta parlando di me! Sta parlando di me, ti dico io! Oggi parleremo di una tematica un po' tecnica, quindi parleremo di che cosa succede al narcisista quando non riesce più ad avere rifornimento narcisistico. Questa è una delle tante cose che possono adottare come soluzione. E qual è questa soluzione? Si chiama idee di riferimento. Come funziona? Prendiamo quindi in considerazione un narcisista che non ha più rifornimento narcisistico né primario né secondario. Perché? Perché la gente lo ha abbandonato. Ne hanno avuto abbastanza. Quindi non ha più modo di avere rifornimento narcisistico o perché è diventato vecchio o perché non ha più soldi. Insomma, non ci sono più le condizioni che gli permettono di potersi offrire rifornimento narcisistico a volontà. Qual è la nuova opzione? Anche perché se non fanno questo è la fine. Ricordate che il narcisista esiste per via delle lodi che fanno gli altri. Se non ci sono queste cose, non c'è vita. E allora ecco che arrivano le idee di riferimento. E quando il narcisista comincia a delirare, perché è proprio di questo che si tratta, è una forma di delirio, comincia a credere che qualsiasi cosa viene detta in giro lo riguarda. Qualcuno passa per la strada, lo guarda in un modo un po' così, perché magari la persona lo guarda perché gli sta ricordando qualcosa che è dimenticato o cose simili, però per il narcisista lo guarda perché in realtà è interessato a lui, lo sta invidiando o lo sta spiando. Va al mercato, vedo un gruppo di persone che stanno parlando tipo così. Il narcisista, quando vede questo, che cosa sta pensando? Stanno parlando di me in segreto. Mi sa che stanno preparando qualcosa per potermi fregare. Perché qualsiasi persona si metta a parlare specialmente a bassa voce riguarda il narcisista. Quindi questo è il suo modo per supplementare alla mancanza di rifornimento narcisistico. Si autodefinisce il centro dell'attenzione di tutti e per tutto. E sta cosa si può spingere a un delirio ulteriore, perché lì veramente, allora, immaginate che esce un nuovo cellulare con un nome particolare, non lo so, uno smartphone con nome Bijon. Chiamiamolo così, Bijon. E se per caso il narcisista c'ha qualcosa nel suo nome che ricorda John, quel smartphone lì, in realtà, è un modo per mandarmi un segnale a me, perché c'è il mio nome lì. Avete visto? Queste sono le cose che iniziano ad innescarsi quando il narcisista rimane da solo. E' solo quando è completamente da solo che inizia a cominciare ad usare questo tipo di rifornimento narcisistico, se vogliamo chiamarlo così, ma è decisamente più nell'ordine del delirio questa roba qui. Vedete perché quando dico che non finiscono bene, finiscono da miserabili, non sono cose esagerate queste, non sono affatto cose esagerate. Quindi questi sono i meccanismi che vengono adottati per poter colmare la mancanza di rifornimento narcisistico. Praticamente si mettono ad immaginare le cose, si inventano situazioni, si inventano nemici. Anche i nemici vanno bene, perché ricordate che il narcisista si nutre anche di rifornimento narcisistico negativo, quindi insulti, persone che lo vogliono distruggere. L'importante è essere al centro dell'attenzione. Vedete come dico sempre? Si inventano sempre qualcosa. Cioè è davvero incredibile. Quindi se non riescono a trovare dei meccanismi fisici da attuare, se li creano mentalmente. Quindi queste sono le idee di riferimento che vengono usate dal narcisista. Bene, questo è tutto per oggi. Spero che questa tematica sia stata del vostro gradimento e ci vediamo alla prossima.